saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione un'opera, non è la mia professione oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e tono bar ho 70 anni, vivo in Italia sulle buon amiche di non esiste precisamente il cadore